Ben tornati a questo corso sugli skid bash che sta aggiungendo le sue ultime battute e in effetti su 17 lezioni previste siamo giunti alla penultima ovvero la sedicesima nella quale parliamo di aggiunta di una gui. Che cos'è la gui? Tanto per iniziare. La gui è l'acronimo inglese per graphical user interface ovvero interfaccia grafica. Unity che stiamo usando nel nostro punto è una gui di fatto è un'interfaccia grafica al contrario il nostro terminale quando noi lavoriamo all'interno di questo bel terminale stiamo usando una interfaccia a caratteri o una CLI CLI una command line interface che non è appunto grafica ma ha interfaccia a caratteri. Fatto sta che il nostro skid bash può anche non limitarsi a un'interfaccia a caratteri come quella che abbiamo usato sempre dall'inizio del corso ma può anche richiamare degli oggetti grafici che permettono di creare più o meno quasi lo stesso tipo di interazione e che possiamo crearci all'interno del terminale con l'interfaccia a caratteri anche con questi elementi grafici. Come si fa? Nel nostro mondo Ubuntu è basato quindi su GNOME, su sistema grafico GNOME e quindi anche tutte le altre distribuzioni e prodotti Linux basati su GNOME come può essere Mint o Debian abbiamo a disposizione un modulo chiamato Zenity. Zenity è un modulo, una raccolta di oggetti grafici che opportunamente impostati, parametrizzati e composti e messi in sequenza permettono di creare appunto uno script grafico con dietro comunque come vedete qui sulla sinistra tutti i nostri comandi bash e tutto quanto è proprio uno script bash però con innestato questo modulo Zenity vedete qui ogni tipo di oggetto grafico parte comunque dal comando Zenity quindi tutto è Zenity qualcosa e poi è tutto a parametri, gli si dice che tipo di oggetto grafico si vuole a dipendenza del parametro in sostanza è tutto qui. Dunque il pacchetto Zenity almeno su Ubuntu dovrebbe già essere installato per difetto qualora proprio proprio per qualsiasi motivo non lo avete quindi provate a richiamare il comando Zenity e vi dice che non c'è lo dovete ovviamente installare, dico in Ubuntu è già installato, in altre distribuzioni Linux non lo so comunque se entrate nell'Ubuntu Software Center potete verificare che c'è il vistino verde cercate Zenity qua e vedete che c'è, io ho il vistino verde perché ovviamente è già installato mostra finestre di dialogo grafiche da script shell, vedete, proprio il suo scopo e si chiama Zenity voilà, posso anche chiudere Software Center dunque, Zenity è piuttosto vasto come comando, ecco, è uno di quei comandi con parecchi parametri come potete vedere qui, anzi ingrandisco questa finestra perché almeno vi rendete conto io dal manuale e dall'help del comando Zenity ho opportunamente raggruppato le varie opzioni per tipo di oggetto grafico quindi ci sono delle opzioni miste che valgono un po' per tutto per il comando Zenity ma diciamo per richiamare il suo help, per vedere la sua versione quindi non servono in sé per creare l'interfaccia grafica sono di servizio, diciamo, opzioni di servizio del comando Zenity ve l'ho messa lì, giusto che le conosciate, sappiate che esistono poi ci sono opzioni generali che valgono quasi per tutto il resto dei parametri dei tipi di oggetti grafici quindi per esempio la larghezza e l'altezza di un dialogo grafico, di una finestra grafica vale praticamente quasi per tutti i prossimi oggetti che passiamo in rassegna e quindi li ho messi fra le opzioni generali perché possono essere usati appunto dappertutto non passiamo tutto in dettaglio, se no facciamo notte o mattina ma potete leggervi tranquillamente le varie opzioni che esistono e qui a fianco ho messo appunto la descrizione è in inglese perché l'ho presa dall'originale naturalmente però ogni tanto forse c'è qualche nota mia in italiano però come ho già avuto modo infinite volte di dire l'inglese è la lingua franca del nostro mondo quindi andate di Google Translator se avete difficoltà però ecco questo è in inglese originale documentazione originale quindi opzioni generali che anche il titolo ecco il titolo di una finestra vale un po' per tutte quindi l'ho messo fra le opzioni generali poi si passano alle opzioni dei dialoghi i cosiddetti dialoghi perché dico dialoghi? perché sono le finestre ecco diciamo che per esempio questa finestra della nota del programma Zim è un dialogo di questo programma ecco quindi in inglese chiamano spesso dialogo quindi dico anche in italiano magari ogni tanto dico finestra ogni tanto dico dialogo comunque sono le finestrelle grafiche che possono essere create con questo comando Zinti ecco vedete che tra l'altro le opzioni di Zenity vengono indicate sempre con due righettine non una sola dei parametri che ve lo dico perché abbiamo visto spesso nelle lezioni passate comandi come eco o altri comandi ai quali si aggiungono delle opzioni dei parametri con una righetta sola in questo caso vedete che Zenity vuole sempre la doppia righetta ma tanto è scritto qui ve ne accorgerete sicuramente fate copia e incolla non ve lo scordate quindi ecco i dialoghi le varie finestre si può con questo parametro visualizzare un dialogo tipo calendario se ne può visualizzare uno tipo entry quindi un campo che ci permette di digitare del testo li passo velocemente perché poi ho lo script che ve li mostra uno a uno e li possiamo vedere poi in pratica uno a uno ma questo è solo per fare una rassegna di tutto questo testo che comunque avete a disposizione dunque dicevo entry quindi un campo che vi permette di digitare del testo error un messaggio tipo errore con l'icona classica degli errori un dialogo una finestra che permette di selezionare i file uno che permette di visualizzare del testo informativo con la classica icona I delle informazioni un tipo di finestra a elenco che permette di visualizzare un elenco di qualcosa con o senza i vari radio bottom e checklist per fare i check col mouse cliccare sopra il vistino o attivare un'opzione quindi varie opzioni sotto opzioni di questo dialogo elenco di ogni genere un dialogo progress che opportunamente come si dice opportunamente impostato parametrizzato permette se c'è se il nostro script bash deve eseguire un'operazione particolarmente lunga è possibile agganciare questo tipo di dialogo che mostra una barra di progressione dell'operazione tipo se copiate un file grosso da una cartella all'altra o da un disco all'altro sicuramente avete visto quella la barra o qui che vi mostra la progressione dell'operazione visto che non è istantanea quindi ci mette un po' o comunque la finestrella che vi mostra sto copiando e c'è una barra arancione che va avanti d'agio d'agio fin quando è finita l'operazione ecco questa è la progress dialogo progress che vi può mostrare proporzionalmente al tempo che ci mette l'operazione vi mostra una barra che va avanti indietro oppure che prosegue un dialogo tipo question cioè col punto di domanda quindi potete chiedere qualcosa visualizzare un messaggio con l'icona punto di domanda un testo informativo un altro tipo di dialogo col testo informativo che questo richiede un nome di file quindi deve già esistere un file di testo sul disco e questo dialogo questa finestra vi permette di visualizzare il contenuto di quel file un warning quindi un avviso con non so se c'è il punto esclamativo o il triangolino di avviso quindi un altro tipo di avviso scale questo scala permette di visualizzare un come dire un cursore che vi permette di impostare un valore su una scala praticamente non so impostate da 1 a 100 voi spostate quel cursore e il valore appunto passa da 1 a 100 25 a 30 a 35 potete impostare un valore graficamente spostando col mouse un cursore color selection è un dialogo standard di selezione di un colore quindi tornerà il valore esadecimale o non so in quale formato non mi ricordo più sì un valore esadecimale del colore voi scegliete un colore classico che avrete già visto e poi vi ritorna appunto il codice di quel colore un dialogo tipo password quindi che mentre voi vi visualizza un campetto nel quale potete scrivere però vi visualizza degli asterischi invece di ciò che scrivete come il campo delle password e poi ancora un forms un dialogo tipo forms che vi permette di comporre una finestra con più campi di tipo diverso per introdurre più informazioni una finestra di ripresa dati praticamente con più campi diversi ecco va bene per adesso rimpicciolisco poi l'ultima nota qui la lasciamo per ultimo quindi qui ho preparato appunto un script che non fa nient'altro che passare a uno a uno tutti i tipi di dialogo e vi mostra visivamente quello che abbiamo appena passato rapidamente adesso in rassegna fino vedete sono anche parecchi qui avete appunto degli esempi di utilizzo quindi potete prendere questi comandi e fare copia e colla o vedere come sono stati composti per vederne l'effetto e capire come utilizzarli poi nel vostro script volendo e voilà allora facciamolo partire così vediamo in pratica tutti questi componenti grafici che ci permettono di crearci anche uno script grafico quindi 16 sì allora il primo il primo adesso qua posizione in cima ma va bene tanto ho messo un comando eco che ci dice cosa sta per uscire quindi possiamo seguire direttamente qui nel terminale dialogo tipo calendar quindi facciamo enter ed ecco che appare un dialogo selezione da calendario è un calendario che ovviamente potete navigare nel quale ovviamente potete navigare per cercare la data che volete l'anno mese scegliete la vostra data potete fare o annulla o ok diciamo il marzo 2015 il 19 faccio ok vedete che mi ha ritornato quel dialogo quella finestra zenity mi ha ritornato ovviamente la data che ho scelto il 19 marzo 2015 molto bene andiamo avanti dialogo tipo entry senza opzione del valore inserito nascosto vuol dire che io vedo quello che sto digitando in questo dialogo tipo entry cioè col campetto nel quale posso scrivere quindi vedete che io scrivo corso script bash quasi finito e però lo vedo in chiaro cioè io riesco a leggere quello che che scrivo e per quello che ho messo senza opzione del valore inserito nascosto perché potrei anche attivare quell'opzione e diventa tipo un campo password quindi faccio ok vedete che mi ritorna quello che ho inserito nel campo bene e qui già capite l'interazione che c'è fra questi oggetti grafici e il nostro script bash cioè questo comando zenity naturalmente opportunamente ovviamente ci ritorna un risultato ogni volta che chiudiamo uno degli oggetti grafici esce ma ci ritorna al nostro script che stiamo eseguendo un risultato e quindi possiamo sfruttare appunto come adesso il campo per inserire un parametro un valore un qualcosa e noi ce lo ritroviamo a disposizione per continuare lo script in un certo modo andiamo avanti il prossimo è un dialogo tipo entry con il valore stile password punto nascosto ecco ho messo anche questo vedete che ci sono gli asterischi quindi io scrivo ma voi non vedete cosa sto scrivendo come una password quindi addirittura nei vostri script potete simulare o introdurre una cosa tipo questa nascosta dopo naturalmente quando ritorna il valore per lo script è leggibile nello script ovviamente adesso io ho scritto a caso vedete ho scritto a caso e mi ritorna quello che ho scritto dialogo tipo error ecco vedete l'error questo è un po' misero così un po' anche sproporzionato come dimensioni voilà però era solo per mostrarvi che viene visualizzata l'icona standard di errore rossa col divieto con un titolo dialogo demo error e avanti così dialogo file selection quindi con selezione multipla di file facciamo enter e vedete che viene visualizzato il classico dialogo di scelta dei file se entro in questa cartella selezione multiple quindi col control posso scegliere più file perché posso scegliere di poter scegliere scusate il gioco di parole o un file solo o più file faccio ok e vedete che mi ritorna con tutto il percorso i tre file che ho scelto 0407 e il 10 avevo scelto mi ritorna tutti i file che ho scelto separati da un punto e virgola perché ho scelto di farli separare da un punto e virgola andiamo avanti dialogo selection con modalità di selezione di una cartella quindi le varie modalità qui posso scegliere vedete che i file sono grigiati non posso scegliere file perché qui posso scegliere solo una cartella quindi scegliamo la nostra cartella e vedete che mi ritorna al percorso di questa cartella dialogo sempre file selection con modalità di selezione di un file e con attiva l'opzione per salvare il file perché naturalmente la selezione file serve a scegliere un file esistente ma con opportuna opzione impostata serve anche per salvare un file quindi io posso crearmi del contenuto nel mio script bash e poi salvarlo in un file di testo in questo caso c'è già preimpostato un nome di un file nuovo se faccio ok salverà in out2.txt e voilà mi dà il percorso pronto per salvare in quel file lì poi dialogo tipo info ecco questo in più leggo qui che io ho messo anche un time out di 3 secondi e poi si chiude da solo quindi questo file tipo info con l'icona classica o schiaccio io ok o vedete che si è chiuso da solo perché ho messo anche un time out si può fare anche questo e fare apparire un dialogo un oggetto grafico per un certo tempo e farlo sparire da solo questo con un'icona personalizzata e innesti di linguaggio markup tag html ecco questo è dialogo come tipo info con un'icona no un'icona personalizzata forse ho usato di nuovo questa però quello che è più interessante è l'innesto di linguaggi markup cioè di linguaggi con i tag html per modificare il carattere del testo qui è standard normale poi questo è diventato più grande questo è diventato in italico in corsivo questo è diventato tipo sottolineato come un un indirizzo internet eccetera eccetera si può anche formattare un po' il testo che appare in alcuni dialoghi e non preoccupate di dire ma come faccio sapere come come non si fa io ho messo laddove è possibile il il link dove ci sono questi markup cioè questi tag questi tipo di sintassi necessaria a modificare il testo come appare l'ho messo laddove è possibile l'ho anche ripetuto vedete c'è dappertutto quindi avete tutto nella documentazione così come nell'esempio qui vedete vedrete come se andate a cercare l'esempio come è stato innestato questo tipo di di linguaggio per rendere grassetto italico il il testo ecco poi andiamo avanti dialogo tipo list per selezione multiple possiate modificare i testi ecco questo qui è un dialogo che presenta un elenco di di voci possiamo selezionarne uno più di una così come modificare anche le voci perché possiamo dirgli di poterle modificare o no qui addirittura possiamo modificarle al volo luna 3 per dire e prendo frutto arancia pianeta luna 3 faccio ok e lui mi torna arancia luna 3 perché ho deciso di farmi tornare solo la seconda colonna però vedete che luna 3 l'ho modificato al volo me l'ha tornato così interessante anche questo tipo list con selezione singola con radio list senza possibilità di modificare i testi delle voci ecco vedete che questo è quei cosiddetti radio button ovvero quelli che permettono di selezionare un'opzione sola non posso modificare le voci volendo posso ordinarle cliccando sull'intestazione vedete che posso ordinarle diciamo verdura cipolla faccio ok mi torno a cipolla perfetto avete tutti gli esempi e con varie anche modalità diverse di usare il medesimo tipo di dialogo questo è ancora un dialogo tipo list però con il checkbox nel quale potete scegliere uno o più di uno di queste opzioni checkbox faccio ok vedete me ne torna 3 ne ho selezionato i tre tipo progress ecco questo non è facile da riproporre perché non ho sotto mano un'operazione così lunga da potervi dimostrare il dialogo progress però se faccio enter gli ho messo qualcosina giusto ecco questa qui sarebbe fosse lunga sufficienza un'operazione nel tempo che dure nel tempo questa barra arancione progredirebbe man mano fino a diventare piena qui ovviamente in un attimo si è riempita perché non c'è dietro nulla di così lungo da mostrarvi la barra che progredisce comunque datemi fiducia questa barra all'occasione buona la vedreste continuare man mano fino alla fine ecco tipo dialogo tipo question quindi col punto di domanda pensi che questo dialogo possa fare il caso nostro sì no si possono personalizzare anche i pulsanti vabbè rispondiamo di sì zero ecco torna zero perché in questo ambito lo zero vuol dire vero oppure positivo diciamo così e premendo il tasto sì torna zero avessi premuto no avrebbe tornato uno che vuol dire negativo risposta negativo o falso ecco tipo question con i pulsanti personalizzati ecco vedete che invece di sì o no ho personalizzato il testo dei pulsanti stavolta che so premo purtroppo per niente e non ho non ho visto il ritorno perché non ho previsto di mostrarvi il codice di ritorno comunque fa niente andiamo avanti text info questo qui è un dialogo tipo testo che mostra in questo caso per esempio mostra un questo qui e credo che sia il file di testo out.txt questo il solito che abbiamo usato durante tutte le lezioni per scrivere o leggere dal medesimo file quindi vedete il contenuto di questo file di testo di questo file di testo il contenuto è elencato in questa finestra in più c'è attivata l'opzione delle accetto le condizioni come se qui metteste una licenza per esempio un classico cos'è? il testo della licenza da accettare per usare il vostro programma leggete la licenza e alla fine vedete che l'ok è grigiato o fate annulla e quindi non accettate le condizioni di licenza oppure fate ok le accettate però prima di fare ok dovete accettare accetto le condizioni fate clic qui e si attiva l'ok non male anche questo vedete stavolta ho messo l'eco del ritorno 0 ok ho accettato molto carino dialogo di tipo text con pulsanti personalizzati è possibile modificare il testo prima di proseguire richiede un file di testo salvato a parte vediamo un po' cosa fa questo quindi ci mostra il solito testo out del file out .txt si può modificare vuol dire che posso modificare quanto vedo qui a video poi schiaccio o rinuncio oppure mi sta bene quindi mi fa vedere l'output del del mio file vabbè questo vedete permesso di modificare è quello che io ho scritto mi ritorna tutto il testo compresa la modifica e siamo a posto questo naturalmente per mostrarvi che potete usare quel tipo di finestra di dialogo per introdurre un vero e proprio testo e poi salvarlo da qualche parte dialogo tipo warning ecco questo qui punto esclamativo attenzione se c'è da avvisare di qualcosa o di un errore potete usare questo tipo di dialogo dialogo tipo scale scusate per visualizzare un oggetto a scorrimento per impostare un valore ecco questo è quello che vi dicevo graficamente con un cursore vedete che qui sulla destra il valore sale man mano che muovo il cursore rispettivamente scende io posso impostare appunto un valore variabile con questo cursore che è graficamente carino si fa ok e torna il valore che abbiamo impostato dialogo color mi sa che siamo praticamente alla fine credo perché mi sembra che il color fosse uno degli ultimi quasi dove è il dialogo eccolo qua siamo arrivati qui praticamente siamo alla fine dei tipi di dialoghi di finestre disponibili faccio enter e questo qui è il classico dialogo di scelta del colore potete scegliere colore con questa bella triangolino e ruota oppure qui con il tavolozza predefinita e qua andiamo un po' cambiamo ancora ecco vabbè questo verdino un po' stramo faccio seleziona e mi ritorna il codice del colore il codice esadicimale del colore dialogo tipo password ecco c'era ancora questo quindi questo qui a differenza del semplice dialogo con il campetto per scriverci dentro questo è un dialogo tipo password quindi presenta già lui c'è l'opzione scusate di presentare anche il campo nome utente quindi potete proprio simulare un accesso classico con il nome utente e la vostra password vedete fate ok naturalmente vi ritorna separato da un simbolo che è identico al pipe vi ritorna la user e la password che avete inserito e così nel vostro script bash potete proseguire magari verificare se la password è giusta o meno e avanti così e poi dialogo tipo forms ecco l'ultimo è il tipo forms che è quello che vi permette di raggruppare dei campi di genere diverso per raccogliere più dati più informazioni faccio enter vedete che qui ho creato una bella finestrella che si chiama modulo per la ripresa dei dati del corso sugli script bash vabbè sto inventando comunque titolo introdurre tutti i dati necessari e qui potete inserire insomma titolo del corso codice segreto del corso tanto per mettere un campo password poi qui gennaio 2013 diciamo che febbraio data inizio febbraio 21 data fine vabbè inventiamo anche qua marzo del 2014 osservazioni del partecipante note a parte ecco vedete che qui è una finestra di ripresa dati di vario tipo fate ok e vi ritorna separate da punte via tutto quanto io ho inserito titolo del corso codice segreto la data di inizio la data di fine del corso le note a parte qui possiamo sfruttare queste informazioni nel nostro script separarle una a una archiviarle da qualche parte quello che vogliamo vedete ecco l'ultima nota che io ho lasciato apposta per ultimo naturalmente è che avrete già capito ma con questi dialoghi queste finestre grafiche dobbiamo anche interagire dobbiamo anche interagire e qui nell'esempio nello script accompagnatorio della lezione 16 ho messo dei bei commenti che spiegano come si fa quindi noi adesso ormai sappiamo come funzionano gli script bash conosciamo i vari variabili particolari tipo dollaro punto di domanda l'abbiamo già incontrato sappiamo cos'è quindi non sto qui ancora a spiegare tutte queste cose potete prendere questo esempio che ovviamente lo avete disponibile leggete il commento e capirete cosa segue qui come esempi di vedete anche commenti piuttosto estesi che ho spiegato tutto per bene per vedere come i vari esempi di interazione quindi di prendersi in carico i valori di ritorno dei vari dialoghi tipo questo come prenderlo in carico nello script bash quando si continua quando si è chiuso il dialogo grafico e poter gestire e usare le informazioni che ci vengono tornate ecco adesso qui esempi di interazione con i dialoghi ecco qua dialogo sì hai risposto 0 che vuol dire sì ecco vedete che questo data scelta 22.3 quindi la seconda parte se la prima parte fin qui di questo script della lezione 16 vi presenta in sequenza tutti i tipi di finestre possibili la seconda parte a partire da qui interazione con i diversi dialoghi vi mostra alcuni esempi in cui c'è la spiegazione e poi l'esempio per mostrarvi come si fa a interagire con questi dialoghi ecco vedete che qua e voilà è finito lo script quindi qui basta che leggiate e seggate l'esempio che ormai conoscete tutta la sintassi necessaria tipo il for il due tutto non ho usato niente di particolarmente nuovo rispetto alle lezioni precedenti ecco quindi se avete interesse o se decidete addirittura di andare solamente sull'interfaccia grafica sappiate che con questo comando Zenity è possibile crearci degli script anche interamente grafici e lo vedrete alla fine dopo la fine del corso quando vi guarderete l'ultimo video al di fuori delle lezioni in cui commenteremo lo script finale quello dove ho raccolto un po' tutto vedrete che quello script è composto praticamente in doppio c'è una parte che funziona con l'interfaccia caratteri e analogamente una parte gemella che funziona con l'interfaccia grafica quindi vi ho messo a disposizione anche un esempio completo di script con una certa interattività praticamente in doppio che vi mostra sia l'esempio interfaccia caratteri sia l'esempio grafico ecco credo che anche per questa lezione abbiamo terminato vi attendo la prossima lezione che è l'ultima effettiva del del corso poi appunto come vi ho già accennato un paio di secondi fa ci sarà ancora un ultimo video al di fuori delle lezioni per commentare così rapidamente lo script finale quindi l'esercizio finale che vi ho messo a disposizione per ora è tutto un saluto ciao ciao